Lo spettacolo ambientale è caratterizzato a nord dal continuo susseguirsi di torri, creste, guglie e canaloni, mentre a sud si apre tra pendii, boscosi e ampi pascoli. Il teatro a cielo aperto in cui si incune alla lunga dorsale calcarea dell'Alben, al Colle di Zambla dove il comune brembano di Oltre il Colle e quello seriano di Oneta disegnano i loro invisibili confini, offre quel posto in prima fila che ogni appassionato di montagna desidera potersi aggiudicare. Dal maggio 2013 una via ferrata che risale le verticalità dell'anticima del Monte Croce, seconda quota dell'Alben, è il riconoscimento che gli amici hanno voluto tributare a Pierangelo Maurizio, scomparso sull'Everest nel 2007. La via ferrata è verticale, esposta, divertente, impegnativa, panoramicissima, non adatta, va precisato, a chi è alle prime armi, ma non impossibile se accompagnati dalle persone giuste. Dalla finestra di casa, a Zambla bassa, osservavo l'avanzare dei camusci ed è così che ho capito come arrivare alla base del primo contrafforte, ci spiega sorridendo la guida alpina Nadia Tiraboschi, cara amica di Pierangelo Maurizio. La progettata attrezzata ha cercato i fondi necessari con l'aiuto e il coinvolgimento di guide alpine locali, volontari e amici. Dopo oltre 400 metri di emozionanti verticalità si concludono le nostre fatiche. Soffia un piacevole vento nella sella che separa l'Alben dal Monte Croce. Antiche leggende narrano dei pianti di un neonato e della giovane madre barbaramente gettati in un poiata ardente dal padre e marito violento. Oppure di quello della montagna aspettatrice impotente del tragico evento. Ci piace pensare possa semplicemente trattarsi di un saluto, quello che Pierangelo Maurizio vuole regalare a chi gli ha voluto bene e ai quali pare voler dire sarò sempre al vostro fianco.